36 milioni di euro, ma tutti falsi. Un tesoro frutto dell'abilità di una banda di falsari. A Pomigliano d'Arco la Guardia di Finanza ha scoperto una stamperia che produceva banconote da 50 euro, ma rigorosamente riprodotte in maniera illegale. I due abili falsari di 37-37 anni residenti a Casario in Napoli hanno tentato di scappare, ma sono stati arrestati. Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord. L'operazione è stata gestita dalla Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico-Finanziare di Napoli e Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma. Il duo di falsari operava al piano terra di uno stabile a Pomigliano d'Arco in cui commercializzavano carne di suino. Il proprietario, ritenuto estranei ai fatti, aveva fittato il locale a una società di leasing e all'interno venivano eseguite le stampe. Le banconote da 50 euro erano perfettamente imitate e per questo motivo venivano smerciate con molta facilità. La produzione si attestava in migliaia di banconote al giorno. Agli abili falsari, la Guardia di Finanza è giunta dopo aver tenuto d'occhio la stamperia. Per settimane i locali sono stati sequestrati insieme alle banconote false prodotte fino a questo momento. Grazie. 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 Grazie.